Mi chiamo Baba Ravi e mi occupa della produzione dell'azienda Brancaia. Le sfide ovviamente nel nostro lavoro con la natura ci sono tante, come ci sono anche tante soddisfazioni. L'etichetta di Brancaia nasce nell'88, non come grande soluzione, ma come l'etichetta blu, che oggi si chiama anche proprio il blu. Le etichette all'epoca erano bianche, avevano un castello, sono tutti elementi che da noi non c'erano. Così il mio babbo, che all'epoca è proprietario di un'azienda di pubblicità in Svizzera, ha preso il suo background e così hanno fatto questa etichetta che è ancora oggi, direi, abbastanza unico. I miei hanno acquistato la tenuta Brancaia nel 1981, che per almeno dieci anni per me era solo una casa di vacanza. Nel mio lavoro mi piace tantissimo di essere collegato con la natura, mi piace tantissimo che riesco a seguire tutti i passi della produzione proprio nella vigna.